Benvenuti in un nuovo video, quest'oggi mia cara feria cercheremo di andare avanti con il nostro libro dopo aver scoperto delle cose interessanti Comunque abbiamo trovato un laboratorio, abbiamo trovato uno scienziato messo in modo un po' strano che era mezzo immortale, ci abbiamo messo due ore a sconfiggerlo E a me sembra che quindi è palese che sono passati anche di qui, però continuo a dirti, quella non mi sembra la base dove stanno loro Non mi sembra neanche che siano vicini, però quantomeno siamo sulle loro tracce, quindi potremmo trovare di nuovo gli scienziati, potremmo finalmente scoprire che cavolo sta succedendo E perché siamo finiti qui soprattutto Perché siamo finiti qui è perché comunque ci hanno lasciato questo libro per andare avanti e capire come sopravvivere in questo mondo Perché altrimenti non penso che ci saremmo riusciti, quindi ci sono ancora tante cose da capire Allora, in primis l'obiettivo di quest'oggi è cercare di finire, diciamo, il primo capitolo Siamo al 61% al momento, abbiamo ancora ancora tante cose, però secondo me ce la possiamo cavare Allora, con il rare horse, quindi con i minerali rari, siamo messi bene il 91% 91% E ci manca soltanto il platino, ok? Immagino si trova sempre tra le meteore Anche secondo me Per quanto riguarda la meteor chest, invece ci dobbiamo trovare tante cose ancora Quindi comunque direi che nella zona meteoriti torneremo a cercare un altro meteorito e scavare lì per vedere un po' come va Mentre per andare avanti e superare la prima fase dovremmo fare il coal generator, ok? Se premi il coal generator non è troppo difficile, ci serve del copper, che non so se abbiamo Del ferro che abbiamo, una fornace che abbiamo e poi dell'alluminio Ok, ok, tutto chiaro Controlla un attimino cosa abbiamo e cosa non abbiamo Comunque Stef, non ti dimenticare, dobbiamo creare anche il secchiello di lava e la fornace di ferro Sì, però sono cose molto meno importanti ed urgenti Eh, però dobbiamo passare anche per di lì per andare avanti Allora, io ti posso già dire, non ho minerali, quindi olio depositati Ah, ecco, li avevamo depositati qua Esatto Eh, ok, però non ne abbiamo molti Penso che prima di tutto, Fred, dobbiamo andare a scavare un bel po' nelle Nelle meteore, anche secondo me dobbiamo continuare a esplorarle Anche perché abbiamo visto che i laboratori comunque, Stef, sono troppo complessi C'è anche quei robot strani che accidenti erano Quindi secondo me non ci conviene tornare nei laboratori Ma dobbiamo continuare a trovare delle meteore Assolutamente, sono d'accordo con te e questa cosa è molto strana Per una volta Allora, il laboratori block lo piazziamo qua perché è un oggetto strano Sto cercando di liberarmi un po' le ceste perché ti giuro Che io in questo momento ho l'inventario veramente, ma veramente pieno, Fred Io sono messa bene o male a posto perché un pochettino l'avevo fatto la volta scorsa Quindi io posso procedere così come sono, sinceramente Ok, allora, ho un altro piccone, quindi sono a posto Tu ce l'hai un altro piccone in ferro? Eh, ce l'ho in pietra, sto guardando un attimino Ho anche una pala in pietra Aspetta che ti creo un piccone in ferro, va Ti ho paggiata, benissimo, però Opla, opla, opla Tieni, mia cara Fere Sta anche diventando giorno, quindi direi che dobbiamo approfittarne Aspetta un attimo che vendo le monettine qua Perché così mi libero un altro po' di spazi nell'inventario Facciamo così, io premo sempre tutto per riuscire a vendere tutto 700 soldi, quindi fra un po' potrò far shopping di qualcosa di veramente bello Però Fere, direi di andare Minigun Non compreremo una minigun a renditi Fere, non voglio una minigun Perché non vuoi una minigun? Perché poi Stef non aveva i colpi, quindi secondo me spara grafica in modo infinito Secondo me sì, o forse i colpi magari sono sempre quelli piccoli della pistola Un po' come su Fortnite, non lo so Però secondo me vale la pena spendere tutti i soldi Dammi una mano e scava, muoviti Maledetto Maledetto cosa? Perché non ti piacciono le armi? Un tempo ti piaceva Stef, ho già trovato la cassa Davvero? Sta dietro di te Wow Che c'è dentro? Un sacco di alberelli di bomiale e di fiori Uh, ci servivano gli alberelli Esatto, cara Per completare la missione della Meteor Chest Perfetto Quindi sicuramente abbiamo fatto nuovi progressi Comunque scava completamente tutto perché dobbiamo trovare un sacco di roba che ci serve Di conseguenza è meglio fin da subito scavare verso tutti i lati Devo dirti che le meteorie su Minecraft normale sarebbe bello che ci fossero Considerando quanto valgono e quanto sono preziose Sono una delle mie cose preferite Sono d'accordo È il divertimento di trovare delle cesse con un sacco di cose Ma Aiuto No, non è stato vicino a me Per quello non capivo Non lo so È esploso da solo Non era minimamente vicino a me L'ho sentito anche in lontananza il suono Come è possibile? Non lo so Sarà esploso da solo Saranno un po' più arrabbiati qui i creeper Comunque volevo dire che mi piacciono le meteore Sai perché? Perché sembrano tipo delle uova sorpresa Perché un po' hanno Brava Sia con i minerali che con le ceste Siamo anche vicini a Pasqua, capito? Non lo so perché già hanno un po' la forma di ovetto E in più tu le apri Non sai che minerali trovi Hai pure la cassa Quindi la sorpresa Cioè è bellissimo secondo me Infatti è l'unica cosa che mi piace di sto mondo Ma no, dai Ci sono altre cose Dai è orribile sto mondo Stef È tutto marrone Porca miseria Quella lavoratoria Io odio il marrone poi Quella lavoratoria poi lì è stato traumatico C'era paura di tornare Senza offesa per nessuno Però se vi piace il marrone Secondo me non siete tanto normali È uno dei colori più brutti del mondo È infatti un miscuglio di tanti colori Perché fa un po' schifo Perè Eh, aiuto Cos'è sto rumore? Non lo sento Non mi urlare Stai scherzando? Però mi fai paura Perè Lo sento Ma Ma cos'era? No, qua stiamo rasentando La so fatta sotto Sto ridendo ma me la so fatta sotto Stiamo rasentando la follia Sai che a me sembrava? Ho una teoria Vai La posso dire? Esponi Sembrava un piretto di un mostro strano Dimmi di no Che si è scaricato all'improvviso Allora, piretto è una parola che conosci solo tu E come la possiamo dire? Una puzzetta Puzzetta Io lo devo sempre spiegare perché poi magari qualcuno non sa che significa Però sì In effetti Vero Più che puzzetta Quando ha fatto quel pezzo finale perché si era appena scaricata Capito? Ma sembrava proprio quando vai in bagno E non fai solo la puzzetta Capito? Fede, non ho parole Te lo giuro Sei rimasto stupita di quello che è successo Non dovremmo ridere Secondo me era una cosa molto pericolosa No, per gli scherzi non so chi può fare quei rumori Spero che non lo incontriamo Secondo me è lo scienziato che è andato in bagno Può essere Uno di quegli scienziati matti D'altro nel laboratorio dovrebbe essere più o meno sotto di noi Quindi Avrebbe senso Perché era davvero gigantesco Bando alle ciance Con la meteor ceste siamo arrivati al 50% Con i Rars Hors non abbiamo fatto nulla di più Io non penso di aver trovato dell'alluminio Io ho trovato No, io non alluminio Silicone grezzo addirittura Ok Sì, alluminio, alluminio Io in realtà ne ho trovato uno Eh, ma uno Eh, uno Proprio uno ho contato Proprio uno Lo vuoi? Non lo so Ti serve? Allora, butto questo perché di nuovo l'inventario pieno No, vabbè, ci serve Però ce ne serve tanto E comunque a fare qua quanto pare non avevamo finito No, infatti Sì, perché ci siamo fatti poi picconi dopo L'avamo guardato un pochettino al volo E poi siamo andati nel laboratorio C'è un blocco che non possiamo prendere con Dobbiamo fare il piccone di ossidiana Per prendere sto blocco Oh, strabello però Chissà com'è Non l'abbiamo mai visto No, infatti Ok, silver ore Anche questo è bello raro No, quello è il platino Che ci serve Non si può rompere Ci serve l'ossidiana Ok Ma come facciamo? Ho sbagliato Dobbiamo crearci l'obsidio Quindi dobbiamo farci un piccone di diamanti Che disastro Abbiamo tre diamanti Come si risale? Sì, dovremmo averli Perlomeno io mi ricordo di averne trovati due E probabilmente anche tu avevi trovato qualcosina Ok Allora Quindi secondo me ce li abbiamo Vediamo Io ne ho uno comunque adesso Quindi uno in più l'ho preso Stef, non riesco a risalire E mettiti qualche blocco sotto Allora, sì È quello che sto facendo adesso Allora, vediamo Era solo per fare un po' di scena Ok Ok Due più tre Li abbiamo appena fatti Guarda Che fortuna Ottimo Ok, deposito tutti i miei blocchi In modo tale da avere tutto in questa cesta Per quanto riguarda diciamo un po' i minerali E quel genere di cose Vado a togliermi un dubbio Stef Vai a toglierti tutti i dubbi che vuoi Voglio vedere cosa c'è da quella parte Perché io dai primi giorni In cui siamo qua Che vedo qualcosa in quella direzione Io sono molto curiosa Fere è molto curiosa In realtà non è nulla In realtà non è nulla È un cumulo di questo terriccio Che abbiamo intorno Che però sembrava una costruzione Però ho trovato un'altra meteora qui Se vuoi venire Volentieri Arrivo subito Allora Aspetta, mi metti in alto così mi vedi Vado nella pantalla No, atteggiavi Fere, non mi chiamo Fere Magari Vabbè È perché il rosa si vede bene Fa contrasto col marrone No, è perché io non mi perdo E capisco dove stanno gli esseri umani Ridi, ridi Allora Allora, io Mentre Fere Un attimino inizia a minare Volevo vedere Per fare il lava bucket Ci serve Il elish matter Che non abbiamo mai trovato Ah, perché ci basta La netherrack Combinata a 4 overwardian matter Ma comunque matter Ne abbiamo soltanto 3 Insomma Fere Per fare l'obsidian Siamo ancora Abbastanza in difficoltà Penso che converrebbe Nel caso Andare in profondità Nel mondo E cercare direttamente Della lava Buttarci dentro Un secchielo d'acqua E fare così l'obsidian Prenderne 3 Con il piccone di diamante Che ho creato E craftarci in questo modo L'obsidian Pkx Ok Per prendere il platino Che appunto ci serve Non mi ricordo a cosa Tu ti ricordi a cosa ci serve al platino? No Io ricordo però Ti ho detto all'inizio del video Che ci serviva Giusto? Sì Ok quindi ci serve Però Steph E se non funzionano I classici modi di Minecraft? I classici modi di Minecraft Se non funziona Ci penseremo Perché magari tu scavi sotto Ti trovi in altro laboratorio E sei fregato L'ho pensato anche io Eh È un po' la mia preoccupazione Eh Però come facciamo A trovare l'altro matter? Continuando a fare le meteore Eh vabbè Ma quante meteore Dobbiamo fare nella nostra vita? Molte Siamo dei meteoriti Fere? Sì Ma come si chiama? Inizio a cercare la cassa Prima di tutto Piuttosto che lamentarti No io la sto cercando però Io ancora non l'ho trovata E neanche io Ah qui non c'è altro Quindi secondo me Dobbiamo andare sotto Non dirmi che non c'è No dai Per forza Non c'è Questo lo butto Steph non c'è Ma questa meteore Era molto diversa dall'altra comunque Era più piccola Vero? Cioè nel senso che Aveva molti meno minerali Non c'è la cassa Quindi sono anche diverse Tra loro le meteore È buono a sapersi Sì a meno che non sia nascosta qui dietro No guarda Qui c'è Terriccio Guarda qua è l'unico punto In cui può avanzare Ma io non la sto vedendo Non c'è Non c'è Perfetto Non è servito a nulla Fare sta meteore Grazie Fere Eh che vuoi Io mica lo potevo sapere in anticipo Occhio che qua c'è un topo Ce n'è un'altra qui di fronte La cosa positiva è che ce ne sono davvero tante Eh sì E quindi non abbiamo problemi a trovarne insomma Allora Questa sembra bella grande Questa è enorme Mi sembra di aver visto anche Un edificio Eh vedi Io è lì che ti dico che Sembra sempre un edificio Ma non c'è nulla secondo me O forse sì Vedi quella sorta di quadratino Ma è un cubo Eh Io vado Eh andiamo a vedere Ormai Cioè la curiosità Uccide sempre ma non mi interessa C'è una cassa che fluttua Verde Sì hai ragione Oh 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 Cosa è sta roba Steph Eh Guarda lì Quello è un altro ingresso Di laboratorio Sì Sicuro Fere pieno di alberelli Magic beam Riesci a prendere tutto il resto Sì Vai Non è vero Non è l'inventario Mi mancano i vines E i semi di zucca Però aspetta Buttiamo il piccolo in pietra Che non me ne faccio nulla Buttiamo anche questa singola freccia Che ho E ok abbiamo fatto tutto Che c'è qui dentro Quello che sto cercando di scoprire A parte che comunque Questa è legna Quindi Non abbiamo un'ascia Natural core Allora Altra meteora Io vado anche a sbirciare i blocchi bianchi Eh però ci servirebbe anche la legna Secondo me No Eh sì Cioè perlomeno almeno Ci possiamo fare una casettina Che sia decente E non di terra Ho buttato il silfio Ma questo non è un laboratorio Comunque sembra un po' scaduto Questo jungle wood Stoffe pieno di roba Cioè Da questa parte Cioè Allora Vieni qui Non è un laboratorio Fari come troviamo a casa nostra adesso Che ci siamo Andando da quella parte Perché noi abbiamo visto il cubo Allora dobbiamo riprendere il cubo E poi riandare da quella parte Allora ascoltami Cos'è Questo è un laboratorio No È diverso l'ingresso E poi cos'è quello Guarda Aspetta No Steph Buongiorno Allora innanzitutto delle torce Fammi mettere le torce in barra va Salve Steph Diamo solo un'opiata e scappiamo eh Come state? Io oggi ho deciso di giocarmela a fifona Siete andati al mare? Sento rumori Quanto si scende? Non finisce più Chi ha costruito sta torre? C'è un po' di Via 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 Però non ho visto nulla Io ho visto solo zombie Guarda Anche io Non mi sembrava proprio una struttura A modo di laboratorio Ma quanto? Feria sta diventando notte Dobbiamo tornare a casa Torniamo a casa Via 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 Uno zombino piccolo è uscito Arrivano tanti piccoli zombie Corri Scappa Mi sono incastrato Via 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 Non ci vedo più nulla Corri verso il cubo Corri verso il cubo Ce la fai? Sì ti sto seguendo Ok Allora quindi dobbiamo girare a destra adesso Sì Secondo me sì 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 per forza Vai veloce vai veloce vai veloce Non si vede più nulla No Come troviamo a casa? Eh Io sapevo quando dovevo seguire Feria Ma perché è così buio a sto mondo buio? Ma non lo so è troppo buio Cioè questo non è buio Questo è buissimo Allora aspetta un attimo Ahah Se no davvero Non si vede nulla Allora Ma quello è uno zombino Feria mi hanno spesso Spara uno laser Non urlare così Eh l'ho capito Dove sei finito Perché stai andando lì? Aiuto Perché è lì casa nostra? Ok ti seguo Mettiamo delle torce Che magari si avvicinano di me Nei mostri Siamo spacciati Io te lo dico Allora questa è la metteria Vedo casa seguimi Ecco vai corri corri Infatti era in quella direzione Vai Feria c'è gente strana A fianco a me Steph corri Non ti girare Guarda C'è un tipo tutto illuminato Oh porca miseria Corri Ma cosa c'è qui la notte? Ma che è sto posto Aia Ma che tipo di esperimenti hanno fatto? Non ha senso di esistere Chiuditi in casa Chiuditi Allora Qua Forza Aiuto Muoviti E sto correndo Non mi mettere fretta Aiuto Che poi Oltre quella torre In cui siamo usciti Sei visto di fronte C'era un edificio enorme L'hai visto? No Come no? Ti ho detto anche girati a guardarlo Feria Stavo pensando ad altro E vabbè ma non guardi mai Comunque era una specie Te lo descrivo Ok Come se fosse un mini palazzo Proprio quadrato Più rettangolare Che quadrato Ed era così Con gli stessi blocchi della torre Altro non ti so dire Perché poi non ci sono andata Ok Allora mettiamo i minerali nella cassa E vabbè però sono troppo piccole Ste cassa Non dovremmo fare delle altre Lo so Poi che miseria È una situazione un po' drammatica E direi Non ci sta più nulla Ma vuoi che piantiamo degli alberelli? Sì perché no Ok Però aspetta questi minerali Ce li abbiamo già Quindi li posso sovrapporre Come ad esempio questo E non è detto che troviamo Molto difficilmente del carbone? Sì Molto raro il carbone Vero? Io ne ho cinque Se ci dovesse servire Però è molto raro Lo lascio dentro la fornace Perché così recuperiamo uno spazio Anche in questo modo Ok Allora questi li stiamo mettendo qui Questi qui dobbiamo fare assolutamente altre cose Altre casse Opla Opla Ok con l'inventario siamo messi bene Allora vediamo cosa abbiamo combinato con il libro E Rare Horse siamo rimasti lì Meteor Chest siamo rimasti lì Lava Bucket non possiamo farci nulla Per il Call Generator Dicevamo Copper Eingot E ne abbiamo Adesso lo facciamo Iron e ne abbiamo Alluminio Ce ne serve tre Tu quanto alluminio hai preso? Io ho messo tutto nella cassa Ste E ma lo riconosci? Qual è? L'alluminio penso sia questo No aspetta Mi ricordo il colore Ma non mi ricordo quale Penso questo Eccoli cinque ne abbiamo Vai passa Tieni su questi Perfetto Così iniziamo a combinare qualcosa Fornace Andiamo a mettere l'alluminio Perfetto E adesso devo prendere il copper Che dovrebbe essere questo molto acceso Molto colorato E ne abbiamo sei Che ci bastano Quindi fare siamo in grado di fare il Call Generator E quindi generiamo il carbone Ecco perché c'è così poco carbone No avevo pensato al nome Ah è vero Anch'io ci avevo pensato al nome Ma mamma mia le cose brutte che ci sono fuori Sono un po' saltelli No no non c'è niente Ma Fede se Dovremmo fare un tetto Non voglio più vedere nulla Se non vedi non esiste Non ce lo dici tu Vuoi un po' di legna? No Ok Come le faccio? Magari voglio dibillare un po' No non voglio dibillare Casa nostra è triste Fede Eh lo so Allora facciamo così Poi ridepositiamo qua l'alluminio che c'è rimasto E a questo punto con i tre di alluminio Gli devo fare così E creo tre alluminium wire Ok Adesso con tre di copper Ce n'è già uno pronto Possiamo fare l'altra parte Teoricamente riuscirò a creare il Call Generator Il macchinario più importante che c'è Non è Vabbè però è importante a questo punto Sì penso Comunque è importante Credo Penso Beh mi immagino Penso proprio di sì Non possiamo esserne sicuri Ma immagino proprio di sì Allora vediamo un attimino Si faceva così Così Quindi metto uno qua Quattro di ferro E tre E' il ferro Eh è tutto nelle casse Steph Io ho depositato tutto Però dovremmo averlo Tipo questo dovrebbe essere il ferro Sì Tieni Undici No dobbiamo farlo Dobbiamo cuocerlo certo No Eh sì No Ma pensi di averlo gratis E beh Direi Appetito Allora facciamo così Facciamo questo Questi li piazziamo ovviamente Eh Iniziamo ad essere veramente pieni con l'inventario Infatti sta uscendo tutto disordinato Perché ste ceste sono minuscole Cioè ma proprio veramente minuscole Sono davvero d'accordo Allora quanti ne servivano Fatemi vedere un po' Così sono pronto Quindi iniziamo a studiare Quattro Tre Uno Uno Quindi devo creare anche già una fornace Così mi porto avanti Opla Fornace creata Tra l'altro almeno un'altra fornace Io L'andrei sinceramente a piazzare Che secondo me Ci serve proprio in generale Sì anche secondo me Ma così come tantissime casse E la piazziamo qua Che poi sono sicuramente meglio le casse in pietra Perché almeno sono più capienti Sì infatti Cioè la meteor chest Boh Non so sinceramente alla fine A cosa ci serve No infatti Zombie Guarda che poi ci colpiscono attraverso i muri Questi Comunque la notte è più buia Ma dura anche di più in questo mondo È impressionante Che poi il rubino Ma come le troviamo queste cose l'ametista Eh per Con un po' di allenamento No mi sono ovviamente dimenticato Quando dovevo depositare queste cose Perché devo usarle per craftare Quindi uno qua Uno qua Poi tre qui E quattro qui Creato il coal generator Che piazziamo qua Ottimo Quindi se io vado nel libro adesso Possiamo prenderci questo reward E ora ci manca il compressor E il circuito fabricator Ma come funziona questo? Coal generator Not generating E ci lo mette del coal Il compressor Ma se genera coal Che senso ha che ci metto del coal? Ok Mamma mia Che cose complicate Aspetta Ci stai riflettendo? Generating Vedi che stiamo creando qualcosa? Non lo so RF Vedi? Io sto guardando un attimino Sento Che succede? È arrivato un alieno Come è arrivato un alieno? L'ho sentito il rumore È paresemente arrivato un alieno Lasciali perdere Quello che succede fuori Non è nostra competenza Ok Io non so A cosa serve questo coal generator Immagino che però Ce lo faranno scoprire a breve Allora Per fare il compressor Ci serve il compressor Envil Che possiamo fare? Alluminio Se non ce li abbiamo Ne oggi Ne domani E il basic Waffer Perché il coperangotto Lo abbiamo Si fa Tramite Mi sa Quest'altro Col circuit Fabricator Sento rumori sempre più strani L'alluminium wire Ce li abbiamo Alla redstone torch Possiamo farla La fornace La facciamo senza problemi Bottoni senza problemi Due di alluminio Forse li abbiamo E una leva La possiamo fare Quindi il circuit Fabricator Che richiede 250 di power Che quindi li diamo Tramite il coal generator Penso sia questo il senso Ok Ok Sto inquadrando un po' Come dobbiamo gestirci il tutto Comunque Per questo episodio Direi che ci fermiamo così ragazzi Perché dobbiamo fare Delle cose complicatissime Attorno a noi Sono arrivate delle strane guardie Che sparano laser Perescenti Oh Accidenti Secondo me Ci hanno seguito Da laboratorio Allontanati dal muro Steph Che ti colpiscono Vieni qua Ti sparo Aia Chiudi Chiudi Mi ha preso pure a me Mi ha fatto malissimo Steph Mi ha levato tre cuori e mezzo Magari mi dà l'arma Se riesco a farlo fuori Altro che la tua pistola Questa Spostati lo sparo Pronta Vai È stato un po' imbarazzante Devo essere sincera Però aveva una spada laser Quindi è normale che mi sia capitato Ti ho anche letto Togliti Che non ha messo nulla Non ci ha dato proprio niente di niente Va Che tristezza Che tristezza Comunque Ci fermiamo così per questo video Dobbiamo cercare di capire un pochino Come fare le cose successive Ma sono abbastanza tranquillo Nel senso Che mi sembra tutto fattibilissimo Quindi non sono preoccupato A parte I strani tipi Che ci mandano qua Ad attaccarci brutalmente Che quelli mi fanno un po' più paura Noi Ci fermiamo È stato come altri video Iscrivetevi al canale Cappellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao